Giovedì santo impegnativo per Vasto Girardi e Montegiorgio, Alditella in palio punti pesanti, altomolisani che non conoscono la parola sconfitta da ben quattro turni, non vogliono perdere la trebisonda al cospetto di un avversario scorbutico. E in risalto con le grandi, come la squadra di Mengo, che ha fermato sullo 0-0 sia il Campobasso che il Castelnuovo a Vomano, l'arbitro e il signor Vailati della sezione di Crema. Per la cronaca sono gli ospiti primi ad esprimersi, Cucù apparecchia per Santoro, che si porta bene il pallone in avanti, supera guerra, ma non trova la porta. Risponde a tono il Vasto Girardi sul capovolgimento di fronte, guida, se ne va con una Veronica, prende la mira, ma trova i guantoni di Galliardini. All'undicesimo protesta il Montegiorgio che si vede annullare una rete messa a segno da Montanaro a seguito di una segnalazione di fuorigioco. Minuto 16 su una giocata di Salatino, Mercai da limite, la gira di piatto di prima intenzione, Galliardini si distende e concede il corner. Trascorrono due minuti, Ruggeri ci prova su un calcio di punizione, superata la barriera a due, pallone che sorvola la parte alta del montante. Insistono i locali al ventiquattresimo, che portano Salatino alla conclusione, il portiere marchigiano riesce nuovamente nel disimpegno. 26, Ruggeri, il capitano gialloblu, destra importunio agli avversari anche nel gioco aereo, la sua girata di testa da corner. Con il cuoio che muore sul fondo alla mezz'ora, è cucù a mettere i brividi agli altomolisani, sfera non lontana dal palo della porta difesa da guerra. Trentaquattresimo ha munito per simulazione il terzino dei locali, Pralini, a terra dopo un affondo in area marchigiana. Al trentaseiesimo, Mercai si porta il pallone sul destro, la indirizza all'angolino e per poco non porta i suoi in avanti nel punteggio. Minuto numero 41, Ruggeri insiste con le punizioni. Destro a giro, da posizione più interessante, Gagliardini se la cava con un intervento pallavolistico. Si chiude a un primo tempo ricco di spunti, ma privo di marcature con il supporto tecnico di Antonio Di Perna. Siamo al quarto della ripresa, sortita locale. Bruni dalla sinistra, un cioccolatino per Minchillo, che spreca come peggio non poteva. Al nono, di nuovo, chance da fermo per Ruggeri ad avere la meglio. Ancora una volta, è l'estremo difensore di Eddi Mengo. Sull'azione successiva, Pralini, Giammonito, ferma con le cattive Cucù, vai lati, estrae il doppio giallo. Il vasto Girardi è in inferiorità numerica, quando c'è ancora da giocare più di mezz'ora. Al dodicesimo, a protestare pesce dopo il contatto con Miccioli, il centrocampista giallo-blu, minaccioso nei pressi della porta ospite. Non viene però accontentato dalla terna arbitrale. Al minuto numero 21, doccia gelata per il team di Prosperi, calcio piazzato, esecuzione magistrale di Miccioli, che indovina la traiettoria e porta in vantaggio il Monte Giorgio. Accade poco fino al trentaseiesimo, quando Guerra tiene in piedi i suoi sulla botta ravvicinata di Albanesi. Sul proseguo, la ribattuta di Cucù viene deviata in calcio d'angolo. Minuto successivo, il neo entrato mandolesi, nelle fila rosso-blu, si vede annullare una rete di rovesciata per posizione irregolare. Vogliono chiuderla gli ospiti al quarantesimo. Zancocchi, all'altezza del primo palo, trova la chiusura di Guerra. Non c'è tregua, minuto numero 88, guida quasi dal limite, non inquadra lo specchio della porta. Concessi ben sei minuti di recupero, all'inizio dei quali Trillini apre il corridoio per Albanesi, che non tiene bassa la mira sull'uscita di Guerra. Fronte opposto, Fioretti conserva un buon possesso sulla destra. Dal fondo riesce ad innescare la testa di Cagnale, che si divora il punto del pari. Game over al di Tella, dove festeggia il Montegiorgio, che prosegue il suo buon momento. Battuta d'arresto che tutto sommato ci può stare per il vasto Girardi, che non cancella quanto di buono, messo in atto fino a questo momento.